Per il Movimento 5 Stelle l'immigrazione è un tema importante che va affrontato con i fatti e non con le parole. Oggi Roma è una città allo sbando, è un ostaggio di un governo incapace e delle urla di Salvini. Sono loro i responsabili di questo caos. Prima ci hanno speculato sopra ed oggi ci fanno campagna elettorale. Crediamo sia il momento di dare una svolta decisiva a questo problema.